Buon Dì, lunedì 17 settembre, buongiorno e buona settimana da Ciper TV. Iniziamo subito a vedere la classe di oggi dove andremo a fare come riscaldamento 3 round dove eseguiremo 10 up and over col PVC, 10 around the world con il PVC, gli esercizi naturalmente sono tutti indicati qui sotto come al solito, poi ci saranno 10 scapola push up per ogni round e 10 scapola pull up per ogni round. Con le spalle riscaldate in questo modo potremo iniziare a fare delle progressioni di keep in pull up alla sbarra e in questo caso il vostro trainer saprà indicarvi il punto di progressione ideale per il vostro livello. Terminata questa parte sulle skills, passiamo al WOD. Oggi abbiamo un WOD in team da due, quindi un WOD in coppie che sarà fatto nella modalità I go you go, quindi quando uno termina l'altro inizia. Il Kesshin è di 2 km raw con la sua divisione di 250 metri, quindi 250 metri un atleta, 250 un alto, 250 il primo, 200 il secondo, 250 il secondo e così facendo fino ad arrivare ai 2 km totali. E a seguire ci saranno 10 round sempre ai go you go di 3 muscle up e di 10 metri di walking lunges con due dumbbell di cui uno nella posizione normale e l'altro nella posizione overhead. Per chi invece non avesse i muscle up abbiamo la possibilità di fare dei burpees pull up in alternativa. Mi raccomando affrontate tutto il WOD con calma perché è abbastanza pesantuccio in ogni caso. Buon divertimento e ci vediamo domani.